Ma nessuno viene a trovarti. Nessuno vuole scambiare con te il suo pensiero. La verità è che sono unico. Non mi interessa ciò che un uomo può trasmettere ad un altro uomo. Come il filosofo ritengo che nulla possa essere trasmesso attraverso l'arte della scrittura. Ma come? La scrittura ha dato vita a capolavori mortali. E grazie alla scrittura si riusciamo a trasmettere alle generazioni contemporanee e future il pensiero. No! Le fastidiose, volgari minuzie non hanno ricetto nel mio spirito che è atto solo di grande. Non ho mai potuto ricordare la differenza che distingue una lettera dall'altra. Un'impazienza generosa non ha consentito che imparassi a leggere. A volte me ne dobbio perché le notti e i giorni sono lunghi.